La Savona ottocentesca fu realizzata dopo l'unità d'Italia, quindi nella seconda metà del secolo, e rappresenta l'immagine del centro di Savona. Vie larghe, ampie piazze, isolate a filostrada con cortili interni. Palazzo Viglienzoni del 1856, detto anche Casa dei Gatti, è situato in via Luigi Corsi ed è uno degli esempi del Liberty Savonese. Il bovindo da semplici linee del primo piano si articola salendo, assumendo le forme esuberanti, ma pulite, dello stile floreale che caratterizza questa corrente artistica. La Savona ottocentesca fu realizzata